per i miei amici oggi vi presento una penna che all'apparenza insomma molti di voi avranno subito riconosciuto stiamo parlando di una comunissima ginao x 750 insomma una penna che non ha certo bisogno di nessuna presentazione ma state tranquilli che non vi presento quella classica penna e voi direte ma allora cosa cavolo ci fai vedere perché ci disturbi con niente per farvi vedere che la calligrafia è un po ma anche la scrittura un po come il maiale non si butta via niente quando quantunque sembrano perdute le speranze c'è sempre modo di rimediare di portare in positività la giornata mi era successo che questa penna così nella sua conformazione classica era senza cappuccio mi è rotolata sul pavimento cadendo è successo quello che vedete ok questo proprio una bella botta è caduta dall'alto detto vabbè butto il pennino ma una vocina mi ha detto ma no non buttare il pennino magari c'è queste rotture queste cose così anche micidiali se vogliamo però alla fine ci portano così a riconsiderare no l'oggetto almeno a me si cambia il mio punto di vista e cambia anche un po' tutta la concezione che sta dietro quell'oggetto allora e difatti per fortuna l'ho buttato altre volte che mi è capitata la stessa cosa l'ho tagliato sono diventati dei pennini italici molto precisi invece questo l'ho tenuto così perché praticamente ho visto che se lo uso un po' come fosse un food adesso magari ci mettiamo di lato vediamo se riusciamo a farlo vedere di lato ecco in questa maniera usando quasi in verticale così posso produrre dei segni molto 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 interessanti allora vedete adesso lo vedrete dall'alto adesso vedete solo ci portiamo di nuovo dall'alto così si vede meglio era solo per farvi vedere insomma che ho adagiato tutto il pennino dall'alto ok eccoci qua vedete quindi perché buttare questa penna che insomma mi fa dei segni veramente veramente molto 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 carini ok allora la penna oltre in questa oltre a questa maniera che appunto è tutta sdraiata quindi ripeto lavoro tutta la penna e posso fare queste lettere con questi ammanchi ma ma veramente molto interessanti no e contemporaneamente però posso anche scrivere chiaramente la devo tenere in una maniera un po' molto dolce perché sto lavorando praticamente in verticale lo vedete no che è verticale praticamente però il flusso non non patisce nulla qua mi è mancato un attimo che sono andato veloce però vedete che si riprende riesco a scrivere convenientemente quindi è chiaro che non è una penna per prendere appunti è diventato un'altra cosa uno strumento inusuale a tutti gli effetti però ancora una volta è per dire che insomma poi altre volte questi pennini quando li ho sostituiti con altre cose sono diventati dei doppi pennini sono riuscito a gemellarne fino a tre assieme ma insomma vedremo quelle altre cose appunto sono diventati anche su altre stirografiche due pennini sovrapposti insomma le opportunità per non buttare il pennino così anche se sembra danneggiato ci sono basta un attimo coglierle e le soddisfazioni arriveranno subito dopo e con questo vi saluto e vi ringrazio come sempre ciao a tutti